Ciao a tutti amici del Game Over e bentornati nella nostra rubrica delle uscite del mese come potete vedere non siamo presentabili, questo mese lo studio del Game Over sta subendo ristrutturazioni quindi non vedrete i nostri bei faccioni ma se vi manchiamo potete venirci a trovare al negozio a Ostellato in via Marzabotto 3 anche solo per venire a fare 4 chiacchiere, per venircela a raccontare e venire a vedere le ultime novità ma a proposito di novità, questo mese come sempre vi portiamo alla nostra rubrica dei giochi selezionati secondo noi i più interessanti nel mese di maggio, ovviamente parliamo di quelli che escono in formato fisico e come sempre vi ringraziamo per seguire i nostri canali, vi ringraziamo per il sostegno che date alle nostre pagine social per aver messo like e condiviso questo video, passiamo alle novità, mi raccomando ricordatevi sempre che se prenotate i giochi al negozio avete il 10% di sconto ovviamente sulle versioni fisiche cominciamo fai un respiro profondo e tuffati nel mar velato, una regione inesplorata dove nuove scoperte ti attendono ad ogni immersione in questo terzo episodio della saga esclusiva nintendo di simulazioni di avventure sottomarine incontra e studia più di 500 specie di creature marine, alcune delle quali erano ritenute estinte o addirittura leggendarie esplora in compagnia con spedizioni online per un massimo di 30 giocatori in cosa ti imbatterai nelle tue avventure subacquee? scendi in pista e vivi l'esperienza definitiva di moto gp goditi il nuovissimo mercato dei piloti e dai forma in maniera dinamica alla tua carriera ogni stagione di gioco porterà aggiornamenti al roster e il sistema di difficoltà adattiva regolerà il livello degli avversari e delle sfide in base alle tue abilità che aspetti? apri il gas e goditi l'emozione della pista remake dell'innovativo titolo del 94 questo fps futuristico mescola il gameplay classico a una grafica hd rinnovata e offre un sistema di controllo aggiornato, un'interfaccia ristrutturata e una colonna sonora tutta nuova affronta uno dei nemici più iconici della storia del gaming, Shodan la folle I.A. che ha preso il controllo della stazione citadel e trasformato tutti gli umani a bordo in un esercito di cyborg mutanti con la sua voce originale questa è la rinascita di un gioco leggendario, una vera e propria pietra miliare del settore e restando in tema di remake passiamo ora a tutt'altro genere come al solito la principessa Peach è in pericolo e a chi toccherà correre in suo soccorso naturalmente al nostro mitico Mario ma questa volta Bowser non sarà l'unico a mettere i bastoni tra le ruote al nostro idraulico preferito riuscirà il nostro eroe a trovare gli antichi tesori della leggenda delle stelle cristallo ad aprire il portale millenario e forse persino a salvare il mondo e Peach? beh lei ha dimostrato di sapersela cavare nel recentissimo gioco a lei dedicato no? scatena il fenomeno che c'è in te e costruisci una carriera leggendaria mentre ti senti un tutt'uno con l'auto grazie al modello di guida e fisica di ultima generazione offerti dalla tecnologia di guida dinamica di EA Sports scopri la nuova modalità carriera pilota con un nuovo gameplay migliorato e familiarizza con un modello di guida più autentico la fisica di ultima generazione offre un maggiore controllo su come il tuo stile di guida personale influisce sulle prestazioni dell'auto e sulla strategia di gara preparati ad accendere la tua passione per le corse e ad avvicinarti alla griglia come mai prima d'ora con F1 24 e questa era l'ultima novità per quanto riguarda le uscite del mese di maggio vi ricordiamo come sempre di seguire tutte le nostre pagine social per le novità le promozioni e i rientri di quello che arriva al negozio periodicamente grazie come sempre del sostegno che ci date e alla prossima ciao ciao